Lì in mezzo c'era un palo della luce e poi lì c'è la chiesetta e qui troviamo a pallone noi. Un enorme parco da 13 ettari con campi sportivi, percorsi ginnici, nuove alberature e una passarella pedonale per scavalcare i binari e andare agevolmente dal quartiere Iapigia a San Pasquale. I lavori per il parco della rinascita nell'area della ex Fibronit sono stati interamente finanziati. Con i 3 milioni e mezzo di euro messi a disposizione dalla regione Puglia si completa l'importo complessivo di quasi 15 milioni di euro previsto dalla progettazione preliminare per la realizzazione dell'opera. Un grande parco, come detto, che sorgendo su un'area bonificata attraverso l'interramento e la tombatura dell'amianto non potrà vedere la realizzazione di costruzioni sulla sua superficie. La tempistica preventivata è quella dell'associazione dell'appalto e l'inizio dei lavori entro la fine del 2023 con un tempo di due anni necessario alla realizzazione. Il completamento del finanziamento si inserisce in un lavoro già avviato da tempo, ha spiegato all'assessore ai lavori pubblici del comune di Bari, Pino Galasso, rispetto allo studio di fattibilità tecnica ed economica già approvato, stiamo solo provvedendo all'aggiornamento delle prescrizioni previste per il PNRR prima di completare la procedura.